Torna dal 19 al 22 luglio, Roseto Perea Prima, giunto quest'anno alle 27esima edizione, torna quindi il grande festival del cinema qui nel territorio rosetano. Sì, torna un grande festival, torna la grande cultura, il grande cinema italiano e internazionale nel nostro comune, prosegue quindi una tradizione che va avanti dal grande Tonino Valeri che ha ideato questo festival e grazie a tutte le amministrazioni che hanno deciso di sostenere la storia e il proseguimento di questa grande rassegna, quindi siamo contentissimi che anche quest'anno ci sarà un grande cartellone con grandi ospiti e soprattutto delle grandi proiezioni. Assessore Luceni cambia un po' il format rispetto all'anno passato, si accorciano un po' i giorni ma gli ospiti rimangono sempre importanti, uno su tutti Edoardo Leo. Edoardo Leo ma tanti altri, Daniele Pecci per dirne un altro, Vanessa Gravina per citare anche un'attrice donna ma cambia un format che si adegua chiaramente a quelle che sono anche un po' le esigenze economiche che abbiamo intorno perché noi vogliamo garantire la storia, vogliamo che prosegua questa grande manifestazione rosetana e vogliamo che però lo faccia mantenendo gli alti standard di qualità che ricordiamo dal passato. Far rimanere questo festival, possiamo dire, un must anche a livello, oltre i confini regionali. Sì, questo lo dobbiamo soprattutto a chi ha lavorato in passato e quindi adesso dobbiamo raccogliere il testimone abbiamo deciso di farlo grazie alla collaborazione con Sulmona International Film Festival l'associazione che cura quel festival lì, oltre 40 anni, si occuperà quest'anno di svolgere il ruolo della direzione artistica a Roseto con l'obiettivo poi magari di avere una durata pluriennale nella organizzazione artistica di questo festival che merita una progettualità e merita appunto di poter essere organizzato nel migliore dei modi con l'occhio al futuro.